Ok, capitolo 10, sull'ishimura, di nuovo Non sono andate bene Isaac, sono andate malissime Comunque ti dico, io nell'ultima avventura mi sono divertito Poi me ne frega niente se ti sei divertito o no, vabbè Almeno stavolta ci saranno i necromorpi sulla nave Almeno spero, speriamo Al vecchio pannello Gravità e supporto vitale su alimentazione ausiliaria Sistemi primari disattivati Centrifuga primaria disattivata per manutenzione Dall'azione, è come pensavo Che c'è? La centrifuga gravitazionale è in riparazione Dovrò scendere sul ponte tecnico Dovrebbe essere interessante Siamo sicuri? Non so proprio che dirti Ti farò sapere Puoi fingere di non essere turbato Ma stare qui di te Tuoi Tutta quella plastica in altri Per coprire i grandi ammuni Che c'erano i corpi Perché ne erano grazia Ma tu non puoi dimenticare Non importa quanto sono Settellici i ricordi Settellici i ricordi 4 ok ora potenzialo al massimo 2 scelta oltre a occhi scattato a coppia oltre al vento la cucina ricerca potenzialo al massimo attenti necromorfi è pronto a farvi male anche se va anche se non era potenziato all'inizio faceva mai lo stesso adesso lo fa ancora di più oddio un necromorfo ma non c'è non c'è nessuno ma forse oh sto marchio sta rincoglionendo anche me mi piace di essere a un ahi un 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 sbaglio sentito il verso di un necromolfo oddio oddio sono saliti sulla nave ma non lo fa, magari mi sbaglio ma allora ma questo deve essere il percorso porca miseria ecco lo sapevo sono saliti sulla nave la torre indietro isaac aspetta la stasi vedi la stasi mi serve no vengono triangolo ecco ricaricata oh se sto qua non mi carica non è contento me ne sono già accorto sai ciao orso abbraccia a tutti ecco ne altri si dai fatevi sotto c'è neanche per voi riviviamo i bei momenti riviviamo i bei momenti che hai passato su di scuola riviviamo i bei momenti che hai passato aspetta c'è ancora uno sparagli eccolo io ok dovrei aver riuscito tutti ora possiamo andare ah hanno messo anche hanno messo questi sistemi anche sull'ishimura hai capito ok no e non è sicuro mi sto dirigendo verso la centrifuga fai attenzione ti chiamo quando sarà attiva io devo andarmi a rompere il culo per attivare ancora la centrifuga va attenzione la pulizia e la decontaminazione del ponte tecnico non sono state portate a termine puoi giustare le surges fai attenzione il siamo un po' il bucce impulsiva per finire la munizione di quella impulsi io troppo del fucile a ricerca quando tornerò indietro metterò un po' a posto con il negozio metterò a posto con il negozio andiamo qua un nodo con il fucile a impulsi ho ancora molto da potenziare col fucile a impulsi porca miseria avvio procedura di decontaminazione no ti prego dai no adesso ci manca che entrino nei necromorzi sai oh ecco benvenuti su l'ishimura eh che voi non c'eravate nel rinno vorrei capire perché qua i lissonesi quando ci sono le scatole quando ci sono le scatole quelle lì enormi hanno anche le gambe invece qua invece qua vanno a gattoni perché ci mancano le gambe nono los lov23 devo Jobson Ah ooo Un avuse uno euro Ma dove cazzo sono tanti fuori,ter? Lasciami! Fuori! Eh, cazzo Isaac, dici le parolacce! Ecco, ora credo che la decontaminazione del ponte tecnico sia stata completata! Allora, vabbè, rispetto all'1 qui questa parte è facile! Non è che bisogna premere ancora i due... i due generatori e spostarli... verso... Verso la centrifica! Bisogna fare una roba più semplice! Bisogna prendere, ecco, queste quattro schede, queste quattro centraline dei dati e inserire i loro giusti posti E poi basta attivarla Ne sono quattro Allora, due Ehm, ecco il terzo Ok, ora il quarto... il quarto... Cos'è? A campo di forza No, non me ne faccio niente Dov'è? La quarta centralina dei dati? No, è un'alterna... Allora cos'è? Una lucetta gialla, no? Una luc... la lucetta rossa... Dov'è cazzo è? Dai! Puoi vedere che quella lucetta gialla lì? Io scommetto quel che ho Smettiamo ai sacco, scommetto quello che ho, ai sacco, quella lì è la quarta centralina, scommettiamo eh Infatti, ma dai, ma cazzo Girata al contrario dalla lucetta gialla, è ovvio che non l'ho vista Pensavo fosse una roba, qualsiasi, non la centrale lì, no? Oh... Scudiamola 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 Grazie a tutti. Ah, meno male, era un'uscitazione. Ho paura che mi prendesse un altro tentacolo e portasse dentro quel buco. Ci siamo quasi scollegati dai binari magnetici. Tienimi aggiornata. Ancora. Ecco, zitto. Non puoi entrare. E non provare a passare dalle positure perché se no mi incazio. C'è qualcuno. Ai bimbe di merda. Ciao. E adesso come fai ad entrare? Dimmelo. Forza croia. A volte dovrai mordermi la città. A volte dovrai mordermi la città. Guarda, guarda. Mamma mia Prendile la, vediamo, no, non posso No, 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 niente Mi so, ho già testato Stross comincia a preoccuparmi Ascolta Io non potrò mai Non potrò mai Ma figliolo Papà non è reale Stross Non fare mai del male a te e la mamma Sì che lo è Tu non riesci a vederlo perché non hai intrapreso le fari Stross L'ago di affidati gli occhi Metti giù quel cacciavite La fase 3 Stross Alien Merda Chissà dove le l'ha messo Quel cacciavite Sì che sarebbe Mi è piaciuto farmela, eh Volevi fregarmi, eh Sto fregato io invece, bello Bello per modo di dire, eh Allora, vediamo qua Il semiconduttore in diamante Ah, ben arrivo al negozio lo vendo subito Poi, vediamo Munizioni ne ho sufficienza A parte quello degli impulsi Comprerò un po' di quelle, va Vediamolo Un po' di 6 impulsi E ora prendiamo un po' di 5, 2, 3, 4, 5 Oh, bene Però mo' salviamo Ok, completato il ponte tecnico Ai prossimi video 9, 2, 3, 4, 2, 1, 5 ch Oh, bene Grazie.